Noi sappiamo che tutte le giovani donne in particolare hanno un'unica preoccupazione quando parliamo di contraccezione e in particolare di pillola. Ci chiedono, ma non è che mi fa ingrassare? Ma non è che mi fa venire la cellulite? E i peli? In altre parole, la prima preoccupazione, che come donna capisco molto bene, perché sono stata ragazza anch'io, è quella di avere un'amica che assolutamente sia alleata anche della nostra bellezza. E allora dobbiamo dire che il medico ci può aiutare moltissimo in questa scelta di alleanza cosmetica scegliendo la pillola più giusta per noi. In particolare, se abbiamo una preoccupazione sul peso, dobbiamo sapere che esistono delle pillole nelle quali il progestinico, che è una delle due componenti della pillola, ha una caratteristica particolare, ossia quella di essere leggermente diuretico. Parliamo di una pillola molto interessante che contiene il drospirenone, una sostanza per l'appunto, che aiuta il nostro corpo a mantenere un perfetto metabolismo dell'acqua, che ha un'azione lievemente diuretica, ed ecco che allora ci aiuta addirittura a ridurre di circa un chilo il peso corporeo nell'arco di nove mesi. Naturalmente, dobbiamo dire con molta chiarezza che non possiamo chiedere alla pillola di sostituire i nostri stili di vita. Quindi io raccomando sempre alle mie pazienti di fare movimento fisico regolare, di avere un'alimentazione adeguata, in particolare fate attenzione ai lieviti, perché i cibi lievitati trattengono liquidi, vi gonfiano, ed ecco che avete quell'aspetto, poi date tutta la colpa alla pillola, e invece non è colpa della pillola, ma di un'alimentazione non adeguata. Quindi preferire frutta, verdura fresca, pesce, carne, uova, giusto la quantità di pasta o riso, ma naturalmente sempre il tutto bilanciato, un apporto calorico equilibrato. Il movimento fisico regolare naturalmente, e poi come dicevo, scegliere la pillola giusta. Ma attenzione, la pillola giusta non è solo per il tipo di progestinico, ma anche per la quantità di estrogeni. Ed ecco che allora è bello sapere che di questa pillola con il drospirenone esistono due taglie, una taglia per le ragazzine un po' più robuste, e una taglia per quelle più minute, diciamo la taglia light. Ecco che allora il ginecologo di nuovo sceglierà la pillola con il drospirenone che ha la quantità di estrogeni più giusta come taglia per il peso della ragazza. Voi direte, ma perché il peso è importante? È importante perché ogni farmaco va proporzionato come quantità anche al nostro peso, perché si distribuisce in un certo volume di tessuti, volume di liquido. Ecco che allora, potendo scegliere tra due opzioni che ci consentono di avere sempre lo stesso principio attivo che ha un'azione lievemente diuretica, ma una diversa taglia intesa come quantità di estrogeni più adatta per il nostro peso, noi potremo avere un grande aiuto dal punto di vista del rischio di ritenzione idrica che viene ridotto e del rischio di cellulite.